La licea è benvenuta a Onlus nel mese di dicembre, inizia le sue attività di raccolta fondi con l'8 di dicembre. Siamo sia alla UBI che per un regalo due volte, cioè nel senso alla UBI ci saranno dei nostri volontari che incarteranno i regali e chi ha piacere può lasciare una donazione. L'altra sarà in piazza davanti a Pinelli in via Beccheria, ci sarà uno stand con i nostri panettoni, i nostri gadget solidari. L'altro evento sarà la consegna dei diplomi al Valle Sneri, una borsa di studio dedicata alla licea benvenuta alla licea e poi il concerto di Natale del 21 dicembre in San Francesco con l'orchestra del Teatro del Giglio, il tenore Davide Piaggio. Ci onorerà della sua presenza Giulio Del Fiorentino che presenterà la serata, che è il direttore di Noi TV. Visto che la nostra associazione punta molto sull'aiutare i giovani, sull'aiutare il territorio, oltre che alle famiglie oncologiche del MEI e quindi cosa meglio di avere come direttore Giulio che vive la sua professione sul territorio di Lucca.